uno molto divertente fu una ragazzina che mi scrisse sulla mia pagina facebook dove mi scrisse ciao salvatore oggi ti ho incontrato per strada a napoli stavi camminando io però ti dico verità ho cambiato marcia piede non volevo disturbarti ho pensato che magari se ti arrabbiavi la prossima volta